Musica Buonasera, bentrovati alla seconda edizione del TG6, apriamo il nostro telegiornale con la cronaca Parlando dell'operazione dei NAS, dei carabinieri di Pescara che hanno effettuato all'alba di oggi un blitz in 19 ristoranti etnici e sushi walk 5 le attività sospese per carenze igienico-sanitarie e 650 kg di alimenti sequestrati perché privi dei requisiti di tracciabilità Capitano Candelli, operazione importante conclusa nelle ultime ore, il prosiego in un'altra operazione che avevate iniziato nelle settimane scorse Sì, ovviamente il prosiego dei controlli nella filiera alimentare, abbiamo controllato numerose attività di ristorazione etnica 19 in tutto l'Abruzzo, dai confini col Terramano ai confini col territorio molisano fino all'entroterra dell'Aquila Nel corso di queste ispezioni abbiamo dovuto sottoporre a sequestro sanitario e quindi destinato poi alla ristruzione 650 kg di carne e pesce Ne sono scaturiti i provvedimenti grazie all'intervento tempestivo dei servizi igiene e del servizio veterinario e delle ASL competenti Provedimenti di sospensione e chiusura di 5 attività di queste 19 controllate e ne sono conseguite anche delle infrazioni Sono scattate 27 infrazioni nei confronti di questi ristoratori, 35 mila euro più o meno la somma delle infrazioni elevate E tutto per le violazioni igienico-sanitarie, ma anche in tema di tracciabilità, ma anche in tema di autocontrollo Però le violazioni più gravi sono quelle igienico-sanitarie, abbiamo trovato situazioni veramente gravi Ci sono delle cucine che erano invase da unto, le immagini sono anche abbastanza eloquenti Riproducono una cappa aspiratrice che presentava uno strato di unto piuttosto solido Con rischi sia per l'igiene che ovviamente anche per il pericolo di incendi che si possono propagare I controlli sulla carne e sul crudo per le modalità di trattazione del crudo e di scongelamento della carne Si parla tanto di sushi, si parla tanto di ristrazione etnica, però va fatta con professionalità E le attività operative di questi ultimi giorni hanno riscontrato purtroppo alcune approssimazioni Si parla tanto di zonosi parassitarie, di anasachidosi Sono quei rischi ai quali noi dobbiamo cercare di andare a reprimere Attraverso delle attività di controllo piuttosto serie ma anche costanti nel tempo Perché andare a controllare le attività soltanto in un solo periodo dell'anno Può delle volte rivelarsi non particolarmente utile per custodire la filiera E per garantire a tutti i cittadini abruzzesi di rivolgersi alle strutture sicure Lasciamo per il momento la cronaca, ci spostiamo a Chieti Dove questa mattina sono stati presentati i progetti di razionalizzazione delle amministrazioni statali Secondo le stime a partire dal 2017 apriranno i cantieri per la riqualificazione Della ex caserma Berardi e dell'ex ospedale militare Bucciante Francesca Romana Testi A Chieti oggi si presenta il piano di razionalizzazione delle amministrazioni statali E dei lavori per la nascita del primo Federal Building in Italia La buona notizia resta il dietro fronte del governo sul caso dell'accorpamento delle prefetture Ci saranno tre grandi poli al servizio della città Di riorganizzazione degli uffici pubblici prevalentemente statali Uno destinato per il proprio polo della cultura Un altro agli uffici finanziari, dei corpi di polizia, altre funzioni E poi la cittadella giudiziaria che va prendendo forma Ecco siamo molto oltre la politica di tagli Siamo finalmente nella fase degli investimenti Tra i primi a battersi contro la manovra del governo Era stato proprio il sindaco di Chieti Umberto Di Primio Che aveva anche incontrato il ministro degli interni Alfano Io credo che sia stato soprattutto la prima il ripensamento del governo Su un provvedimento che non può essere adottato in ragione di una scelta numerica Ne tagliamo 20, ne tagliamo 18, ne tagliamo 13 E poi credo che sia valsa soprattutto per la nostra di prefettura Proprio questa organizzazione che come città ci siamo dati E come uffici per i feci dello Stato è stata stata data alla presenza sul territorio Che indubbiamente ha fatto riflettere il ministero in particolare dell'interno Sul fatto che forse Chieti non meritava l'accorpamento Essendo un progetto pilota proprio per la soluzione al problema dei costi degli uffici per i feci dello Stato Il rischio però non sembra scampato del tutto così come ha spiegato anche il prefetto di Chieti Adesso bisognerà vedere nel 2017 e 2018 cosa accadrà in realtà Sicuramente ogni pausa che possa consentire una riflessione quanto più approfondita è benvenuta Ma questo non è l'interesse della prefettura in quanto tale ma della prefettura in quanto istituzione Dicevo prima con dei colleghi di altri uffici che la ragion d'essere della prefettura come di altri uffici analoghi È quella della prossimità al territorio Nei momenti in cui venisse meno la prossimità al territorio Probabilmente avrebbe meno anche l'utilità di un istituto così importante Cambiamo argomento a rischio le concessioni demaniali Secondo la direttiva europea Bolkstein Infatti non ci sarebbe più spazio per proroghe Prima dell'estate potrebbero finire all'asta gli stabilimenti balneari Ad intervenire è stata la regione Abruzzo con il consigliere Luciano Monticelli Che ha incontrato il ministro per gli affari regionali Raffaele Costa Concessioni demaniali all'asta per i balneatori italiani Questa la tanto temuta direttiva Bolkstein Che ieri ha visto partire alla volta di Carrara Associazioni di categorie in regione Abruzzo L'annuncio era stato quello del mancato rinvio al 2020 E dunque il rischio tangibile di perdere i propri stabilimenti In tempi brevissimi forse anche prima dell'estate Abbiamo voluto confrontarci con lui e con le altre regioni Perché noi chiediamo l'applicazione o la disapplicazione in questo caso Della direttiva Bolkstein perché nulla a che fare con gli stabilimenti balneari Perché sono concessioni di beni e non di servizi E poi perché anche nella 123 del 2006 cosiddetta direttiva Bolkstein Nell'articolo 12 si parla ampiamente di dove la risorsa non è limitata Non si applicano le aste Abbiamo voluto ribadire e speriamo che questa volta sia la volta buona Perché i tempi sono stringenti al ministro Di attivare quelle politiche soprattutto tra il governo e il Parlamento e la Commissione europea L'incontro si è concluso con due richieste da parte della regione Per rimodulare una direttiva che proprio nel suo corpo fondante Spiega l'impossibilità di essere applicata laddove esista la limitatezza del demanio Per non parlare dell'impatto economico che creerebbe su tutte le famiglie Che da generazioni hanno investito negli impianti che l'Europa vorrebbe mettere all'asta Noi ribadiamo ancora una volta, fatto nella conferenza settimana scorsa Il doppio binario, cioè l'applicazione della gara d'appalto sulle nuove concessioni E un periodo transitorio di circa 30 anni per far rientrare degli investimenti fatti dalle ditte stesse Ci sarà una seconda fase dopo questo incontro? Ma urgentemente, proprio questa mattina ho riscritto di nuovo al ministro Di cui convochi urgentemente la conferenza Stato-Regione e la conferenza delle Regioni E faccia un decreto legislativo, un progetto di legge affinché vada in Europa Parliamo ora di occupazione, assemblea dei lavoratori della Brioni Ieri allo stadio comunale di Penne contro gli esuberi di 400 operai Esuberi annunciati dall'azienda il prossimo 9 marzo I lavoratori protesteranno sotto il palazzo del Regione a Pescara Vediamo il servizio di Antonio Recanati Il colpo d'occhio dello stadio di Penne così pieno di gente sulla tribuna E' evocato nostalgici ricordi della grande squadra pennese che fu Ma purtroppo non si trattava di amarcord calcistico Ma spettatori erano gli operai della Brioni Riuniti insieme alle sigle sindacali contro i 400 esuberi Annunciati dall'azienda francese Motivata che i tagli sarebbero legati alla crisi economica Che attanaglia il segmento del lusso Con numeri di produzione sempre in diminuzione Come prima azione una grande manifestazione il prossimo 9 marzo Ma ne è annunciata anche un'altra Presso la Regione Abruzzo a Pescara Dove a seguire ci sarà un incontro Tra i sindacati, la dirigenza Brioni E l'assessore regionale alle attività produttive Giovanni Lolli In Brioni non è mai successo Non c'è mai stata una dichiarazione di subito di questa portata E anche di conseguenza le relazioni sindacali Non possono essere come erano fino a ieri Adesso si parla di licenziamenti forzati A questo punto il nostro atteggiamento è completamente diverso Da oggi si comincia la lotta per mantenere il posto di lavoro Noi proporremo la dichiarazione dello stato di agitazione Un pacchetto di 16 ore di sciopero Perché questo territorio non si può permettere di perdere 400 posti di lavoro Intervenga il Ministero Con risorse aggiuntive Perché abbiamo necessità di avere un piano industriale E una soluzione a tutti Confidiamo principalmente sia nella regione che nel governo nazionale Che possano darci novità per ridurre l'esubero al massimo C'è invece rabbia e non rassegnazione negli occhi e nelle parole degli operai Che ieri hanno affollato la tribuna dello stadio di Penne Perdere 400 posti di lavoro oltre che rovinare tante famiglie Sarebbe una massata terribile per tutta la città Non so di chi è la colpa, a chi attribuire questa colpa Sicuramente il nostro lavoro non è più apprezzato nel mondo Quindi penso che i nostri dirigenti si debbano chiedere il perché di questa cosa qui E perché adesso ci ritroviamo in questa situazione qui Lavoro dalla Brioni da ben 27 anni E tutta questa realtà non me la sarei mai aspettata Sinceramente io do la colpa alla maggior parte ai dirigenti Perché sono convinta che loro abbiano fatto tutto questo macello E chiedo un appello alla Kering Per favore non mandate tutta questa gente per strada E proprio sulla vicenda degli esuberi alla Brioni di Penne Il deputato di Sinistra Ecologia e Libertà Gianni Melilla Ha presentato una interrogazione ai ministri di Lavoro e Sviluppo Economico Chiedendo quali iniziative vogliano intraprendere Per scongiurare la crisi occupazionale dell'azienda E noi torniamo alla cronaca perché sarebbe morto per cause naturali Legate alla sindrome della morte in Culla Il bimbo di quattro mesi che lunedì scorso era stato trovato privo di vita All'interno di un appartamento di via Chiarini a Montesilvano E quanto emerso dall'esame utopico eseguito quest'oggi all'ospedale di Pescara Dal medico legale Ildo Polidoro Su incarico del PM Silvia Santoro Che ieri aveva aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo L'autopsia sul corpo del bambino è durata circa quattro ore Occorrerà attendere ulteriori accertamenti di tipo microbiologico, tossicologico, farmacologico e istologico Per verificare le cause più specifiche della morte Cambiamo ancora pagina I sindacati criticano l'articolo pubblicato oggi sul Sole 24 Ore In particolare la CGL dichiara Non c'è nulla di meno oggettivo dei dati Occorre una operazione verità Vediamo il servizio di Elisa Leuzzo Oggi in prima pagina sul Sole 24 Ore Il titolo del PIL 2015 cresce dello 0,8% Lavoro 70.000 posti in più Come commentarlo? Commentiamo dicendo che occorre forse un'operazione verità su questi posti che crescono Sicuramente come sindacato bisogna guardare positivamente che crescono i posti di lavoro Dobbiamo capire a che cosa è dovuto Se agli sgravi contributivi messi nella legge di stabilità O se è effettiva e vera occupazione E quindi bisogna guardare a lungo termine in cosa si tradurranno Ecco, Renzi parla di un boom del Job Act impressionante Definito impressionante Il Jobs Act come lo vogliamo considerare Come contratto che riduce i diritti man mano che le persone entrano Se è questo lo sviluppo del Paese Noi chiediamo giustamente una giusta riflessione Per capire se in effetti questi si tradurranno in un'occupazione vera Un'occupazione con diritti E' un'occupazione che consenta soprattutto alle giovani e generazioni Di guardare con serenità al loro futuro Un commento anche sul dato che a gennaio bene gli over 50 Ma sale la disoccupazione giovanile? E' questo il problema Perché gli effetti di questo trend riguardano soprattutto una fascia di età molto elevata La preoccupazione grande è soprattutto sui giovani Perché noi già abbiamo a livello generale una disoccupazione altissima Se continuo a salire forse una domanda ce la dobbiamo porre Ecco, nel senso di ma che tipo di occupazione stiamo costruendo E soprattutto per i giovani Per i giovani Vi faccio un esempio Stanno crescendo moltissimo le iscrizioni ai licei scientifici Stanno diminuendo le iscrizioni a quelli che sono gli istituti professionali Gli istituti che in teoria o nel passato dovevano costruire posti di lavoro Oppure le figure tecniche intermedie nei processi lavorativi Allora anche su questo occorrerà riflettere per capire Che tipo di sbocco occupazionale si sta costruendo per questi ragazzi Perché se aumenta così tanto la disoccupazione giovanile Vuol dire che non ci sta un tessuto produttivo che possa poi metterli dentro Parliamo ora di economia perché a sostegno delle imprese e del mercato La Banca dell'Adriatico mette a disposizione 300 milioni di euro Per finanziare progetti di investimento Migliorare l'assetto creditizio e sostenere la liquidità aziendale Secondo i dati si registra una piccola crescita anche sul nostro territorio Si parla ancora di imprese che hanno necessità di sostegno Oggi c'è un incontro dove si parla anche con degli esponenti Delle banche del nostro territorio In questo senso guardando il quadro che si sta facendo in Abruzzo Anche guardando quelli che sono ovviamente i canali più importanti Qual è la situazione? Situazione come sempre a tinte in chiaroscuro Vi sono imprese che vanno bene Che hanno internazionalizzato il prodotto Hanno conquistato mercati esteri Qui il supporto delle banche diventa fondamentale Per una serie di argomenti di tipo tecnico Legati a prodotti finanziari specifici Quindi oggi siamo qui In un convegno organizzato alla Banca dell'Adriatico E quindi sentiamo anche le proposte della banca La notizia è la disposizione di 300 milioni di euro per le imprese E la notizia è soprattutto che quello che era lamentato Era la difficoltà di accesso al credito Questo è un intervento che cambierà le sorti delle imprese? Assolutamente sì Il target sono le 110 mila imprese presenti in questa ragione Quindi non c'è un limite dimensionale Non c'è un limite al settore L'unico requisito che chiediamo è che siano aziende che hanno voglia di investire Di crescere, di agganciare la ripresa dell'economia Quello che ci si chiede è quale sia la fotografia dell'impresa abruzzese Soprattutto quando si parla di piccola ripresa Quali siano i comparti che la stanno trainando? Dopo gli anni difficili iniziati nel 2009 Che avevano comportato un calo importante delle esportazioni sui mercati esteri Dal 2014 abbiamo iniziato a vedere dei segnali di recupero Anche per le esportazioni dell'Abruzzo Nel 2015 questi segnali di recupero si sono consolidati E nei primi nove mesi dell'anno Le esportazioni abruzzesi sono aumentate del 3-6% in termini tendenziali E i settori trainanti sono stati settori a medio alta tecnologia Come l'automotive, come anche la farmaceutica Che hanno registrato aumenti importanti dell'export Ma anche settori tradizionali, in particolare il settore agroalimentare Parliamo ora di sanità perché Rinaldo Tordera È ufficialmente stato nominato nuovo manager dell'ASL dell'Aquila Una nomina che arriva dopo tante polemiche ed attese Giorgio Alessandri Tordera doveva essere e Tordera è stato Nell'ultimo giorno utile la giunta regionale ufficializza la nomina Del nuovo direttore generale dell'ASL Sulmona Vezzano L'Aquila Ponendo fine ad oltre un mese di dibattito, polemiche e strali Tutti interni al PD Aquilano Ha vinto la linea sposata dalla prima ora dal sindaco dell'Aquila Massimo Cialente Che ha da sempre auspicato la nomina di un manager alla guida dell'azienda sanitaria Sponsorizzando la figura dell'ex direttore generale della Carispac E attuale, almeno fino a ieri, amministratore unico dell'ASM L'azienda che si occupa del trattamento dei rifiuti nel capoluogo Nel suo curriculum una serie di incarichi prestigiosi Dalla presidenza dell'ente teatrale l'uovo A quella di amministratore delegato di sviluppo Italia Fino a quella di capo del comitato tecnico Della costituenda banca dell'Aquila Impresa che, almeno finora, non ha ancora visto la luce Sconfitto o comunque fortemente ridimensionato Il consigliere regionale del PD Pierpaolo Petrucci E una serie di amministratori locali che, al contrario Hanno pubblicamente calteggiato la nomina di una figura interna All'ASL, possibilmente un medico Il compromesso alla fine è stato trovato salamonicamente Con la nomina di vice di Tordera di Roberto Marzetti Già manager dell'ASL, prima di Giancarlo Silveri Che il 31 dicembre scorso ha rassegnato le dimissioni Una scelta che comunque potrebbe non ricomporre i coach All'interno del PD Aquilano Dove già si scaldano i motori In vista delle amministrative dell'anno prossimo Sullo sfondo i sindacati Che hanno più volte stigmatizzato la scelta di D'Alfonso Eccialente Annunciando ricorsi altare alla magistratura Per una presunta inidoneità della figura di Tordera La partita da giocare è complessa Soprattutto in virtù del quadro di riorganizzazione della sanità E degli scenari che potrebbero aprirsi Con la facoltà di medicina Per questo la rettrice dell'Atene Aquilano Paolo Inverardi Ha auspicato l'incontro al più presto Con il mio manager Tordera E dall'Aquila andiamo a Pescara Per parlare di una iniziativa del Movimento 5 Stelle Che critica l'amministrazione comunale Che richiede il pagamento del canone COSAP Anche per le occupazioni relative al superamento Delle barriere architettoniche Consigliera Sabatini Tassa sull'accessibilità I cittadini pagano a Pescara anche questo Che voi definite un balzello Perché? Sì, è un canone per l'occupazione del suolo pubblico Per le attività commerciali Quindi gli edifici pubblici Che vogliono mettere rampe e scivoli Per l'accessibilità Quindi per abbattere le barriere architettoniche Lo abbiamo scoperto Cioè il comune di Pescara Chiede l'occupazione del suolo pubblico Anche per queste strutture Che abbattono le barriere architettoniche E le cifre sono molto elevate Si arriva a circa 422 euro Da dare ogni tre anni Per la registrazione del contratto E se si vuole Abbiamo fatto un esempio Due gradini Si vuole abbattere appunto questo ostacolo Ci vogliono addirittura 300 euro Quindi complessivamente circa 700 euro Costerebbe un'attività commerciale Che vuole rendere la propria attività Accessibile a tutti È per noi assolutamente inaccettabile Ed incredibile Che il comune di Pescara Abbia sempre chiesto questa cifra Andando contro invece tutta l'idea Di accessibilità e di necessità Di aprire a tutti la possibilità Di fruire degli spazi pubblici E quindi della propria realtà cittadina Avete presentato una mozione in Consiglio Abbiamo presentato una proposta di deliberazione Che vada appunto a inserire Tra le esenzioni All'occupazione Al pagamento dell'occupazione Solo pubblico Appunto tutte quelle installazioni Quindi rampe Scivoli Che consentano l'accesso ai disabili È assolutamente inaccettabile Che si paghi Per l'occupazione solo pubblico E quindi tutti i costi aggiuntivi Che dicevo Perché invece deve essere garantita L'accessibilità È la precondizione Per la partecipazione Alla città E per fruire Come dicevo Degli edifici pubblici E della nostra realtà urbana Nel prossimo servizio Parliamo di Job Act Di un convegno Che si è tenuto a Pescara Con la presenza Di alcuni studenti Oggi si parla Della riforma Del lavoro Cosa più importante Lo si fa con gli studenti Certo Perché gli studenti Sono i lavoratori di domani La scuola deve entrare Profondamente In questi temi Perché Prima di tutto Gli studenti sono dei cittadini Sono adesso degli studenti In futuro saranno dei lavoratori Devono conoscere bene Le regole Alle quali dovranno sottoporsi Come hanno risposto all'incontro? I ragazzi Come avete potuto Anche voi constatare Sono molto attenti Molto interessati Perché in classe Abbiamo fatto un lavoro Di preparazione Per un mese Più o meno Abbiamo Senza trascurare Naturalmente L'attività didattica ordinaria Perché quello poi È il supporto di tutto Abbiamo studiato Le documenti Relativi appunto Allo Jobs Act Alla riforma del lavoro E poi i ragazzi Li hanno riferiti Li hanno reinterpretati Li hanno in qualche modo Criticati Per esporre un proprio Punto di vista Come avete risposto All'incontro di oggi? Beh abbiamo risposto Con una partecipazione Molto positiva Da parte sia mia Che dei miei compagni Dialogare Con professori universitari Con sindacalisti Comunque persone che sono estrane Alla nostra scuola E che quindi hanno Delle esperienze Possono aiutarci A farci capire Come sarà Il mondo del lavoro Tra qualche anno E questo secondo me È un aspetto molto importante In quanto in molte scuole Questo non accade E fanno studiare solamente Gli studenti Su pagine di libri E quindi non sul concreto E ora parliamo di editoria Perché è uscito lunedì 29 febbraio In tutte le librerie d'Italia Il libro La prima pubblicazione Del nostro collega Della redazione Dell'Aquila Gianmarco Menga Libro intitolato Sportivamente d'annunzio Il bate Tra sport Giornalismo E letteratura Il volume È edito Dalla casa editrice Edizioni Croce Ed è online Su tutte le piattaforme Più importanti Sabato 5 marzo In programma La prima presentazione Ufficiale del libro A Gardone Riviera Nell'auditorium Del vittoriale Degli italiani E siamo alla pagina sportiva Parliamo di serie B Di calcio Con le decisioni Del giudice sportivo Che sono arrivate Nel pomeriggio Di oggi Cinque giornate Di stop Per il giocatore Del virtus centella Simone Palermo Reo di aver colpito Con una gomitata Al volto Un calciatore avversario Per quanto riguarda Pescara e Lanciano Sono stati fermati Per un turno Dal giudice sportivo L'attaccante Della formazione Bianca azzura Gianluca Lapadula E il difensore Capitano Della virtus Antonio Aquilanti Parliamo proprio Del pescara Andando a vedere Insieme il servizio Sulla partita Giocata ieri sera Allo stadio adriatico Partita persa Dai biancazzuri Per 2-1 Con il trapani Di male in peggio Dove è finito il pescara Questo si chiedono I tifosi biancazzurri Dopo la per certi versi Sconcertante Prova offerta Contro un trapani ordinato Ma non certo insuperabile Quell'offerta Contro i siciliani È stata la peggior prova Stagionale Della squadra di Massimo Oddo Che dovrà pensare Probabilmente a fare Un bagno di umiltà Dopo un mese terribile E alla vigilia Della delicata trasferta Di Vercelli Dove la squadra Sarà costretta a giocare Senza Lapadula Che verrà squalificato Nella fredda serata Dell'Adriatico Davanti a 7.000 spettatori Oddo schiera Una squadra Meno offensiva Del solito E con Bruno e Mandragora Centrocampo E Verre in panchina Con Verde Al fianco di Caprari Con Lapadula Unica punta di ruolo Nel trapani Non ci sono Scozzarella e Raffaello Con Cosmi Che opta Per un abbottonato 3-5-2 Al quarto minuto Primo acuto Con un tiro di Caprari Deviato in angolo Da un difensore siciliano Al sesto La risposta ospite Affidata a Citro Che conclude In sospetto Fuorigioco Di poco a lato Al nono I biancazzurri Hanno una ghiotta occasione Con Caprari Che se ne va in contropiede Serve Lapadula Che a botta sicura Mira all'angolino Con Coronado Che va a salvare Sulla linea Un gol praticamente fatto Ma il trapani Non sta a guardare Al dodicesimo Citro Se ne va in contropiede Con Zampano Che rischia il fallo E riesce comunque A chiudere Evitando guai peggiori Ma lo stesso Citro Si rifà al tredicesimo Quando su una bambola Della difesa adriatica Su cross di Coronado Porta vuota Mette la palla Alle spalle di Fiorillo Per il vantaggio Ile Pescara accusa Il colpo e barcolla Con la squadra di Cosmi Che attacca ancora Non paga del vantaggio Pian piano I ragazzi di Oddo Cercano di reagire E fra il ventiseiesimo E ventisettesimo Ci provano Prima di testa La padula Con il pallone Che termina alto E poi Mandragora Con un tiro centrale Gara che non vede Un attimo di pausa E così al trentatresimo E Pektovic A sfiorare il 2 a 0 Che arriva un attimo dopo Ad opera di Citro Con l'annullamento Di Martinelli Per un fuorigioco Che lascia parecchi dubbi Il finale di primo tempo Non regala altre emozioni Con le due squadre Che rientrano Negli spogliatoi Sul risultato di 0 a 1 Nella ripresa Si ricomincia Con gli stessi 22 I biancazzuri Sembrano più motivati E al nono è verde Che chiama Nicolas Ad una parata Non facile È però un fuoco di paglia Ile Pescara infatti Preme ma non sfonda E così o domanda In campo Mitriza E a costa Per verde E ben ali I biancazzuri Attaccano a testa bassa Senza però riuscire A costruire azioni pericolose Il trapani A buon gioco Difendendosi Mentre Otto Getta nella mischia Anche Cappelluzzo Provando il tutto per tutto Nicolas però Non viene mai seriamente impegnato E al contrario E Fiorillo Al trentottesimo Con un mezzo miracolo Ad evitare il raddoppio Di Decenco Al quarantaquattresimo Viene ammonito La Padula Che diffidato Salterà la gara Di Vercelli Ma anche la dea bendata Si ricorda del delfino E così al quarantaquattresimo E Michele Fornasier A ristabilire la parità Sugli sviluppi Di un calcio d'angolo Ile Pescara ci crede Al quarantaseesimo Ancora Mandragora Con un tiro insidioso Sfiore il palo Ma il Beleno Ancora una volta Nella coda E così al novantatresimo Eramo approfitta Di una dormita Colossale Della difesa Biancaazzurra Segnando il gol Del definitivo 2-1 Per il Pescara E davvero Nottefonda Importante pareggio Per il Lanciano Al Sinigaglia Di Como Gara non facile Iperorossoneri Andiamo ad ascoltare Proprio al novantunesimo Le dichiarazioni Del tecnico Frentano Primo Maragliulo E' stata Probabilmente Una partita Dai due volti Il primo tempo Il secondo tempo Il primo tempo Vantaggio Strameritato Del Como Nel secondo tempo Noi abbiamo Reagito alla grande Già prima Del pareggio Avevamo avuto Qualche palla buona Ma Avevamo anche Avuto una Supremazia territoriale Come l'aveva avuto Il Como Nel primo tempo Poi Successivamente Sicuramente Come è stato Sfortunato In qualche episodio Però per assurdo Poi noi abbiamo Avuto le due palle Anche noi Grammarose Per vincere la partita Credo che sia stata Una bella partita Perché Giocata a viso aperto Da entrambe le squadre Questo sinceramente Mi ha anche un po' sorpreso Nel senso che Una squadra Come la nostra Che lotta Per la salvezza Non dovrebbe Concedere tanto Invece Probabilmente In questa partita Abbiamo concesso Un po' il troppo E a proposito Di Lanciano Sabato In occasione Della gara interna Con il Brescia Per la chiusura Del settore Ospiti Su disposizione Dell'osservatorio Sulle manifestazioni Sportive Saranno ospitati In Curva Nord I ragazzi Delle scuole Di Lanciano E del comprensorio Frentano E chiudiamo Con il Teramo Teramo Che sta valutando L'opportunità Di presentare Un nuovo ricorso Per avere Un ulteriore sconto Sulla penalizzazione Dopo la restituzione Di tre punti Per quanto riguarda Il calcio giocato Noi andiamo ad ascoltare Il centrocampista Cenciarelli È stata una partita Stradominata Insomma Dall'inizio Dal primo minuto Fino alla fine C'è il rammarico Che Siamo fatti Due gol Praticamente Uno l'abbiamo fatto Nella porta nostra E l'altro In quell'avversario Però Come detto prima Brugaletta L'errore ci può stare Chi non sbaglia Vuol dire che non fa niente Però adesso Voltiamo pagina Dobbiamo continuare Con la stessa mentalità Con la stessa Aggressività Che abbiamo messo Domenica in campo E Andare a Prato Per fare i punti Voglio che Questo sia un capitolo chiuso Di là di tutto Adesso Bisogna Mancano dieci partite Dobbiamo fare i più punti possibili Questa vicenda Bisogna proprio Cancellarla Io personalmente L'ho cancellata Magari ripartire Appunto da domenica A fare i punti E a macinare i chilometri Il Prato ha bisogno di punti Anche noi abbiamo bisogno Come loro Quindi Sarà una partita Comunque complicata Un campo che Mi ricordo l'anno scorso Non era Bellissimo Però Andremo a fare Per la nostra partita Io sto migliorando Ne sto rendendo conto Che sugli inserimenti E su Appunto Seguire l'azione Lo sviluppo dell'azione Sto migliorando E Già il fatto di essermi trovato Appunto in quella situazione Vuol dire che Qualcosa in me Sta Sta cambiando So Di aver dato sempre il massimo Nonostante Appunto Le situazioni Che ci sono state Quest'anno Non ho Diciamo niente Di cui vergognarmi Di cui essere Rammaricato Ed è tutto Per la nostra Seconda edizione Del TG6 Grazie come sempre Per averci seguito Appuntamento Questa sera Alle 23 Per la terza edizione Grazie e buona serata Grazie a tutti